Sopero per il clima domani in più di cento paesi nel mondo a guidare la protesta Udine tra la studentessa del sello Mariana Tonelli e lo chef Friulano Scarello sostiene che l'ambiente si difende anche a tavola. Niente social, pazienza, si lasciano da parte telefonini e pc. Anche in Friuli Facebook, Instagram e Whatsapp sono andati in blackout ma pare che in pochi ne abbiano risentito. È l'unico cascamificio attivo in Italia, il Giuseppe Botto è figli di Tarcento, conta 70 dipendenti ma non trova personale da avviare la filatura di seta e cashmere, i giovani formati dall'azienda se ne sono andati. A Mortegliano è stato inventato un nuovo gusto di gelato, si chiama 11320 in onore dell'altezza del campanile cittadino, il più alto d'Italia chi lo acquisterà continuerà alla raccolta di fondi per ristrutturarlo. Udinese senza sette infortunati, uno squalificato, quella con il Napoli un'altra missione quasi impossibile. Al divario tecnico tra le due squadre si aggiunge il numero di indisponibili tre bianconeri. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia che apriamo parlando dello sciopero per il clima che domani interesserà oltre 100 paesi nel mondo con una manifestazione in programma anche a Udine. A guidarla e promuoverla è una giovanissima studentessa del sello. Saranno oltre mille le piazze in tutto il mondo in cui si manifesterà per sensibilizzare sulla crisi climatica e tutto è cominciato con Fridays for Future, venerdì per il futuro, un'associazione nata spontaneamente intorno a Greta Thunberg, la sedicenne svedese diventata palladina del clima famoso in tutto il mondo. E tra queste ci sarà anche Udine dove il corteo sfilerà lungo le vie cittadine per chiedere maggior sensibilità sul tema del cambiamento climatico. La Fridays for Future è un movimento che nasce dal basso, sostanzialmente è nato da Greta Thunberg che è una ragazzina di 16 anni che ha cominciato ogni venerdì a manifestare davanti al Parlamento svedese per chiedere azioni al suo governo e ai governi mondiali per la crisi climatica che stiamo vivendo. In più di mille piazze si manifesterà e sarà una cosa fantastica perché manifesteremo appunto in così tanti posti e tutti sincronizzati nella stessa fascia oraria dalle 9 alle 13. Ma attivamente cosa si può fare nella vita di tutti i giorni per il clima? Diciamo che le scelte che ci ripetono da quando siamo piccoli sono quelle che possiamo prendere ogni giorno, quotidianamente ne facciamo azioni che hanno un impatto sul nostro pianeta, sul mondo in cui viviamo. Possiamo dire di no alle cose che ci vengono offerte gratuitamente, possiamo dire di no agli oggetti usa e getta come le cannucce o il cucchiaino per mangiare gelato piuttosto prendiamo un cono, possiamo dire di no ad utilizzare la macchina per spostarci per pochi metri, possiamo usare o la bicicletta o i piedi o i servizi pubblici, insomma sono veramente tante le possibilità che abbiamo a disposizione, dobbiamo usare le tutte al massimo. L'ambiente lo si difende anche a tavola, lo sostiene il più celebre degli chef friulani, Emanuele Scarello. I cuochi hanno oggi una responsabilità sociale diversa rispetto al passato e devono mettere qualcosa di diverso nei loro piatti oltre al cibo e con queste parole che lo chef friulano Emanuele Scarello, due stelle Michelin, sta portando avanti la sua battaglia affinché l'alimentazione, a partire da quella di alto livello, riduca l'impatto sull'ambiente. Lo ha fatto a Nova Gorizza, dove è protagonista del progetto Glocal Gourmet, promosso dal gruppo IT e che coinvolge oltre i ristoranti degli alberghi anche la locale scuola di biotecnologia che prepara i giovani ai mestieri sia di agricoltore sia di cuoco. La biodiversità, sì, la biodiversità si difende anche in cucina e il nostro ruolo è sempre più determinante in queste cose perché non possiamo pensare che possiamo fare a meno anche delle api, proviamo a pensare, in questi giorni se ne è parlato molto nella nostra regione, ma le api sono le prime sentinelle e dobbiamo stare attenti e quindi la stagionalità soprattutto e attenzione anche alle api, ci servono. Secondo Scarello bastano piccoli gesti per portare un grande risultato, a partire dall'impostare i menu con prodotti locali e di stagione, al fine di ridurre l'impatto ambientale della logistica e della conservazione e poi c'è la lotta di Scarello all'utilizzo eccessivo della plastica, a partire dalle pellicole per alimenti. In una piccola cucina professionale ogni anno se ne consumano decine di chilometri. Scarello infine si dichiara molto entusiasta del movimento di giovani che anche in Friuli protestano contro la distruzione ambientale. Friday for Future, sì ci sto anch'io, cambiatelo, ve lo stiamo rovinando, cambiatelo, è per voi, io sono con voi. E a proposito di tematiche ambientali riprendiamo le polemiche sorte a Monfalcone per quanto riguarda le emissioni della centrale termoelettrica. Vi abbiamo illustrato nei giorni scorsi la posizione dell'amministrazione comunale. Bene, A2A in questi giorni ha replicato al Comune sottolineando come la centrale non sia a cause di malattie e problematiche sanitarie. E guerra sull'area di Monfalcone. Le stanze presentate in questi giorni dal Comune con la richiesta della revisione dell'AIA della centrale termoelettrica di Monfalcone non sono passate inosservate. Quanto presentato dall'amministrazione comunale e supportato anche da recenti studi infatti si è rivelato piuttosto pesante con alcune accuse verso le emissioni della stessa centrale che attribuivano ad elementi chimici di produzione industriale la responsabilità non solo di infarti e tumori ma anche di numerosi aborti spontanei quando i livelli di SO2 nell'area aumentavano indicandone la centrale come prima causa. Ma sul caso è intervenuta direttamente la proprietà A2A sottolineando come abbiano investito negli anni diverse decine di milioni di euro per dotare la centrale delle migliori tecnologie disponibili sul mercato e garantire livelli emissivi tra i più bassi d'Europa tra gli impianti alimentati a carbone. L'apporto della centrale è trascurabile, ricorda A2A in una nota. Nessuno studio scientifico ha mai documentato una correlazione tra l'emissione della centrale e presunte incidenze sulla salute della popolazione. Centrale che, va detto, entro il 2025 dovrebbe in ogni caso dismettere l'utilizzo del carbone. E a proposito di questioni che fanno discutere, abbiamo parlato del clima ma in queste ultime ore tra le vicende sulla bocca un po' di tutti c'è il blackout dei social network Facebook, Instagram e anche Whatsapp. Siamo andati tra i friulani per capire se questa situazione abbia creato disagio o meno. I più, almeno davanti alle telecamere, non si sono detti preoccupati. Hanno detto, anzi, è stata l'occasione per mettere da parte, almeno per qualche ora, telefonini e PC. Più di 14 ore. È il malfunzionamento di Facebook, Instagram e Whatsapp più lungo della storia, quello che sta lasciando ancora strascichi in queste ore, dopo il totale blackout di ieri pomeriggio in diverse parti del mondo. E nemmeno l'Italia è rimasta immune con l'impossibilità di aggiornare status e caricare foto, oltre che mandare messaggi. Un problema quello che hanno dovuto gestire le aziende di Mark Zuckerberg che potrebbe avere diverse spiegazioni. L'informatica, come ogni altra cosa, necessita di continuità, ma può succedere anche che le cose non vadano sempre come ci si aspetta. Quindi, diciamo, le spiegazioni possono essere diverse. un server che magari va fuori linea e crea della complessità di gestione per qualche minuto, piuttosto che magari un attacco informatico che mette a repentaglio il sistema e quindi il sistema stesso va in autoprotezione per difendere i dati. Anche i friulani hanno dovuto gestire ore e ore offline, anche se in realtà i disagi sono stati gestiti piuttosto bene. E ieri che sono stati in blackout tutto il giorno, Whatsapp non ha funzionato, Facebook non ha funzionato? Davvero? Io non l'ho visto. Sì, io l'ho visto. Sì? Non cambia tanto, però magari uno ha cose da fare con lavoro, foto, perché comunque si usano Whatsapp magari per un documento, scuola, così può essere un problema se fanno affidamento solo su quello. No, effettivamente l'ho visto stamattina su Reddit, perché uso più Reddit che Facebook o altre cose. Ieri che sono stati in blackout tutto il giorno, Facebook, Whatsapp e Instagram, ti ha pesato? Benissimo uguale. No, per fortuna no, perché comunque ero uscita la sera, ero con i miei amici e così, però ho visto molta gente in difficoltà. Lei usa i social network? Poco. Poco? Sì. Quindi si sta ancora, il giorno d'oggi ancora senza social network si può stare? Direi proprio di sì, scherza. Quindi non ha sofferto del fatto che ieri Facebook, Whatsapp e Instagram sono andati in blackout per quasi tutto il giorno? No, sono sopravvissuta. Grazie. E meno male verrebbe da dire. In Siel e la Regione hanno presentato il nuovo sistema open data regionale, amministrazioni e denti pubblici caricheranno i loro dati su questo nuovo sistema condiviso, dove gli utenti e i cittadini potranno utilizzarli liberamente e gratuitamente. Da un lato rispondere a standard italiani ed europei, dall'altro migliorare la fruibilità. Il nuovo sistema open data regionale presentato dall'assessore Callari insieme a Insiel porterà una migliore comunicazione tra sistemi di dati, caricati sulla piattaforma dagli enti locali e dal pubblico. Mappe, grafici e schemi infatti permetteranno ai dati di essere più comprensibili. Molto spesso si parla della nostra regione in termini negativi, perché per esempio se ne parla anche in questi giorni siamo fra le regioni un po' più depresse dal punto di vista della ripresa dell'economia, ma certamente dal punto di vista del digitale assolutamente no, siamo fra le regioni più evolute. Open data significa un'amministrazione che fornisce a tutti gli operatori economici, a tutti i cittadini, e a tutti gli interessati dai dati, dati che rappresentano la ricchezza del futuro. Si presume che in Europa avere accesso agli open data significa utilizzare una ricchezza che può trasformarsi in 70 bilioni di euro, cioè dire praticamente 70 mila miliardi, che è 35 volte il PIL italiano. C'è una normativa che disciplina come i dati pubblici, i cosiddetti open data, sono liberati e sono gestiti. C'è una normativa europea, l'Italia l'ha recepita, il FIU di Venezia Giulia ovviamente come regione all'avanguardia in Italia su queste tematiche ha subito adeguato il portale che aveva in linea con quelle che sono le previsioni normative. Per il cittadino è molto semplice, stiamo festeggiando la settimana dell'amministrazione aperta, quindi vedere i dati e informarsi. Per le imprese è molto importante utilizzare questo strumento per poter veicolare servizi e creare l'acquisita economia del dato e per la pubblica amministrazione sfidarsi continuamente in una logica di trasparenza e di vicinanza al cittadino rispetto ai servizi che vanno a derogare. No alla via della seta si mette a rischio la sicurezza nazionale. Così il Vice Premier Matteo Salvini. Se ci sarà il solo lontanissimo dubbio che certe acquisizioni possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale, ha detto l'esponente del Governo nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, da Ministro dell'Interno dirò un secco no. Prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o Genova, guarderei a fondo, ha poi aggiunto il titolare del Viminale. Se fosse un americano nessun problema, se invece venisse dalla Cina sarebbe diverso. Ogni investimento in settori strategici, conclude Salvini, necessita della massima prudenza. MSC conferma l'ordine per la costruzione di quattro navi da crociera di lusso a Fincantieri. La firma dei contratti definitivi è stata annunciata oggi e fa seguito a un memorandum d'intesa tra le parti dell'ottobre 2018. I contratti soggetti al finanziamento dell'armatore hanno un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Le quattro unità, in forma a una nota congiunta, avranno una stazza lorda di circa 64 mila tonnellate e saranno caratterizzate da soluzioni marittime di prossima generazione e delle più recenti tecnologie per la tutela dell'ambiente. Borgolumi in via Lumignacco è il nuovo complesso residenziale realizzato a Udine in housing sociale. È composto da 56 alloggi, 44 dei quali saranno disponibili in locazioni con canone inferiori del 15% rispetto alla media indicata dal mercato immobiliare. Un nuovo modello di convivenza urbana. A Udine è divenuto realtà il progetto di housing sociale, dove essere inquilini non significa solo condividere lo stesso edificio, ma anche contribuire alla creazione di una comunità sostenibile e solidale. È il progetto residenziale Borgolumi, un complesso immobiliare in via Lumignacco composto da due edifici Aelle dotati di impianto solare e fotovoltaico, con 56 alloggi di 70 e 95 metri quadri, 44 dei quali saranno disponibili in locazione con canoni che variano da 410 a 560 euro al mese. In occasione dell'inaugurazione della struttura è stato ricordato, a un mese dalla sua scomparsa, Daniele Casotto, presidente e direttore di Celsa, di impresa cooperativa che ha realizzato l'immobile, al cui impegno si deve l'avvio del fondo housing sociale delle Friuli Venezia Giulia. Nel 2010-2011, quando abbiamo cominciato a parlare nelle prime volte, sembrava una cosa un po' tra il sogno e la follia. Otto anni dopo ci troviamo un progetto di 100 milioni già totalmente approvate e finanziati da Cassa Depositi e Prestiti per l'intera regione, e questo di Via Luminaco è il primo intervento di Udine. La logica sociale ha alcuni requisiti, sono case in classe energetica elevata, in questo caso un casa clima A3, questo consente delle spese di gestione molto molto limitate, sono edifici immobili destinati all'affitto per l'80%, un 20% può essere venduto, all'interno della parte affittata stiamo predisponendo modalità di affitto riscatto e questo è un pezzo. Da punto di vista economico, per scelta proprio legislativa, le case dell'ausio sociale devono avere un affitto che si colloca sul 15% meno del mercato medio immobiliare del luogo in cui si trovano. A Udine è prevista la realizzazione di altre tre strutture analoghe a Borgolumi che contribuiranno, come spera il sindaco Pietro Fontanini, a incrementare la popolazione del capoluogo friulano per arrivare ai 100.000 abitanti. Il progetto Borgolumi fa parte di un programma di iniziativa di edilizia privata sociale sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti attraverso il FIA con 81 milioni di euro per realizzare in regione oltre 700 appartamenti. Queste abitazioni per i giovani sono ottimali perché ci sono spazi piccoli, spazi medi, spazi grandi, quindi è un'offerta complessiva che potrà cogliere positivamente le esigenze degli utenti. Io spero che saranno occupati, anche per questo significherà un'altra cosa a cui ci tengo, di arrivare ai 100.000 abitanti, perché ci mancano 500 persone. Io penso che con l'ausio sociale forse riusciamo a raggiungere questo obiettivo e quindi finalmente a far passare Udine ai 100.000 abitanti. Il progetto di housing sociale di Via Lumignacco è importante perché garantisce attraverso accorgimenti strutturali la salubrità degli ambienti ed è un accrescimento del patrimonio immobiliare cittadino. Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha salutato gli attori di quest'operazione partita grazie alle intuizioni di amministratori locali e regionali del passato. È un'innovazione, cioè un modo di fare che in Europa era da tempo collaudato. In Italia ogni tanto arriviamo un po' dopo, però se all'inizio è stato un po' macchinoso perché era da capire, eccetera. Io mi ricordo anni e anni fa quando si parlava di housing sociale era una cosa un po' particolarmente presa con le pinze, però in realtà adesso ha funzionato collaudata e i risultati ci sono, anche oggi si vedono. Rubava nelle case e nei negozi e poi portava la refurtiva in un casolare abbandonato di Udine, nei guai, un ventenne. Viveva in un casolare abbandonato in via Molin Nuova, Udine l'aveva trasformato in un deposito dove stoccare i beni che rubava in case e negozi. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Udine. Si tratta di un cittadino albanese di vent'anni nei cui confronti si è proceduto con un fermo d'indiziato di delitto per ricettazione e furto aggravato. All'interno del casolare c'erano refurtiva, accendini, cosmetici, un vero e proprio armamentario di pistole, giocattolo, cacciaviti, grimaldelli e altri arnesi usati dai ladri per introdursi furtivamente nelle case e poi guanti e calzari per non lasciare tracce e agire silenziosi. Solo poche ore prima il giovane era stato fermato e già denunciato dalla Polizia perché trovato con alcuni abiti rubati al cittafira di Martignaco e con oro e gioielli sottratti probabilmente da un'abitazione. Presa dalla Polizia di Stato anche un'altra ladra, una cittadina croata di 32 anni che nascondeva sotto gli abiti cacciaviti e plastiche gli attrezzi del mestiere utilizzati dai ladri d'appartamento. Portava una borsa di marca al colle, una catenina d'oro bianco, entrambe provento di un recente furto messo a segno in un'abitazione di Trieste. E' stata denunciata e munita di foglio di via da Udine per tre anni. Ed ora altre notizie di Cronaca in pillole. Infortunio sul lavoro in un'azienda di Talmassons dove un uomo di 53 anni dipendente di una dita di pulizia di Udine è caduto da due metri da una scalla mentre stava lavando i vetri. Accolto in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Mette in vendita una stufa online a 250 euro ma viene raggirata da un cittadino romeno che vive in Veneto. L'uomo infatti invece di versarle la somma ruba della sua carta di credito oltre 4.000 euro. La vittima è una donna di Fagagna che ha denunciato il fatto ai carabinieri. Il truffatore è stato denunciato. Furto nell'edicola di via Cadore a Udine a dare l'allarme è stata una passante. Di mattina presto ha notato la porta aperta e la luce accesa all'interno. Ha dato l'allarme e i carabinieri hanno constatato l'effrazione e il passaggio dei ladri nella notte inedicola. I danni sono in corso di accertamento. Tentato colpo invece all'officina Sandrin di Palmanova dove i malviventi hanno disattivato l'allarme senza però poi riuscire a rubare nulla. Lascia la barca in una marina di Lignano e si assenta per qualche giorno. A rientro la brutta sorpresa il natante è sparito rubato insieme a un potente motore e al carrello. Il danno ammonta a oltre 15.000 euro. Indagano i carabinieri. Un cittadino straniero è stato trovato in possesso di due in volo crim cellophane contenenti alcuni grammi di cocaina. Senza fissa dimora con un permesso di soggiorno scaduto è stato denunciato dai carabinieri di Udine. Ho ottenuto un primo risultato per i dipendenti a rischio licenziamento dell'azienda Sirti che in Friuli sono almeno 20 su una forza lavoro di 80 persone. L'azienda ha infatti accolto la richiesta di sospensione dei termini della procedura per consentire lo svolgimento di un incontro che è in programma il 21 marzo in Asso Lombarda Milano. Gli esuberi al momento sono congelati grazie alla medazione tra il governo e il sindacato. Il Mise, che ritiene i termini della procedura non condivisibili, si è impegnato a inserire la richiesta sindacale di un tavolo di settore all'interno dei tavoli di discussione già aperti. Il 21 sarà valutato di conseguenza il sussistere delle condizioni per proseguire o meno il confronto. Nel frattempo continuano le azioni a tutela della occupazione con manifestazioni a Bari e Milano. Dal Friuli questa mattina una folta rappresentanza della Sirti di Basiliano ha raggiunto Treviso dove si è tenuto un sit-in davanti al palazzo della prefettura a cui si riferiscono le immagini che avete appena visto. Ancora difficoltà per la realtà chimica della serie Chim di Torviscosa. Vediamo. Rinnovato per altri sei mesi alla serie Chim di Torviscosa il contratto di solidarietà. L'ammortizzatore sociale interessa 16 persone e quindi fino al prossimo mese di settembre si vedranno ridotto lo stipendio e l'orario di lavoro. La nostra speranza per questo gruppo di ricercatori altamente specializzato dice Gianluca Diana, segretario regionale della Femca CISL e che possono arrivare a breve nuove e importanti commesse. Perché il contratto di solidarietà assiclato in questi giorni non potrà essere ulteriormente rinnovato. Serichime infatti arriva da altri precedenti sei mesi di utilizzo dello stesso ammortizzatore sociale. Se l'assegnazione continua dovremo poi ricorrere alla cassa integrazione. Fondata nel 2006 come spin-off del reparto di ricerca e sviluppo processo di una grande azienda chimica italiana, Serichime è un'organizzazione di ricerca a contratto che fornisce supporto all'interno dell'industria farmaceutica e delle biotecnologie. La maggior parte delle 16 persone impiegate è in possesso di un dottorato di ricerca in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche, con più di 15 anni di esperienza. E i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia guardano con attesa la visita domani del nuovo capo del Corpo Nazionale Fabio Dattilo. Le sigle sindacali FP, CGL, FNS, CISL, WILPA, CONFASAL, USB sono in attesa di conoscere le novità che porterà da Roma e quali siano le strategie per la nostra regione. Da tempo i pompieri lamentano la drastica riduzione del personale in servizio. Ed ora andiamo nell'unico cascamificio rimasto attivo in Italia dopo la grave crisi della manifattura, il Giuseppe Botto e i figli di Tarcento. Ci sono delle difficoltà a reperire personale. E ormai l'unico cascamificio d'Italia a trattare filatura di seta, cashmere seta e cashmere di altissima qualità, quello di Bulfons di Tarcento, il Giuseppe Botto e i figli SPA. L'opificio storico ha retto la grande crisi manifatturiera che ha portato alla chiusura invece negli anni di tutte le altre realtà produttive simili nella penisola. Investiamo continuamente sul cascamificio, dice l'amministratore delegato Ferdinando Botto-Poala, sia sotto il profilo economico che sul fronte del personale. Uno dei problemi che stiamo affrontando in questo periodo è quello del ricambio generazionale. Molte delle nostre storiche dipendenti sono ormai prossime alla pensione ed è necessario che trasmettono la loro conoscenza ai nuovi assunti. Lo scorso anno, per fare un esempio, abbiamo investito oltre 100.000 euro solo per affiancamenti. Poi però succede che i giovani, qui è stato insegnato tutto in questo lavoro altamente specializzato, decidano di andarsene. Dicono che non è un'occupazione che fa per loro, che cercano altro. Invece di aggrapparsi con le unghie a un posto stabile. Siamo increduli, non riusciamo a trovare persone che vogliono impegnarsi a prendere e lavorare. Cascami Seta occupa fino a 70, tra uomini e donne, non è impegnata soltanto nella produzione di eccezionali filati di seta, tanto da vendere addirittura in Cina, ma anche nella tutela dell'ambiente con costanti operazioni di efficientamento e protezione del paesaggio. Tra gli interventi ci sono ad esempio la pulizia e la manutenzione dei sentieri di accesso alla cascata di Crosis, dove sorge l'impianto idroelettrico di proprietà dell'Opificio Tarcentino. Un nuovo gusto di gelato per raccogliere fondi e contribuire così alla ristrutturazione del campanile, succede a Mortegliano. La curiosità attorno, o se preferite, ai piedi del campanile di Mortegliano, il più alto d'Italia, cresce a vista d'occhio e cresce soprattutto la mobilitazione per raccogliere fondi al fine di ristrutturare, rendendo più sicura la struttura campanaria, oltre alla vendita degli scalini, ovvero l'applicazione di una targhetta personalizzata dedicata a o ai benefattori disposti a versare sino a 1.000 euro, ora scatta l'operazione gelato. Ad anticipare la notizia è Aldo Paravano, che fa sapere come in questi giorni nelle gelaterie di Mortegliano verrà prodotto e venduto il gelato battezzato con il nome 113,20, in pratica all'altezza del campanile. Per i clienti che acquisteranno questo gusto di gelato ci sarà un leggero sovrapprezzo, verrà pagata la pallina, il surplus verrà versato in una cassetta dove verranno raccolti i fondi per mettere mano al campanile morteglianese, ma soprattutto per la realizzazione del corimano, realizzato ora solo sino al primo piano, l'intenzione di arrivare sino in cima. Un attore campanaria che, come conferma Paravano, referente parrocchiale per il campanile, è sicura, ma negli anni 90 è stata sottoposta ad una ristrutturazione per delle infiltrazioni d'acqua che avevano intaccato l'acciaio che a sua volta aveva reagito, indebolendo alcune parti in cemento armato. Lo stesso problema ultimamente si è verificato in alcune parti interne della struttura ottagonale. Anche in questo caso l'acqua è entrata in contatto con l'acciaio che ha cominciato a reagire provocando una dilattazione del cemento armato. Paravano ci tiene a sottolineare che è una situazione normale, visto che quando il campanile fu costruito non c'erano gli attuali sistemi che di fatto consolidano il cemento che viene gettato. Si provvederà alla sistemazione con pitture idrorepellenti, favorendo un isolamento dalle infiltrazioni. Sollecitare il governo spagnolo a garantire il corretto svolgimento dell'iter giudiziario nella ricerca dell'irrinunciabile verità sulle cause dell'incidente nel quale ha perso la vita Elisa Valent. A chiederlo alla giunta regionale è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Mauro Bordin con la mozione numero 69. Una mozione pensata e scritta dall'assessore regionale al patrimonio e alle finanze Barbara Zilli. Il 20 marzo 2016 a Barcellona si è verificato il tragico incidente in cui hanno perso la vita 12 studentesse di cui 6 italiane, tra queste anche Elisa Valent, 25enne di Venzone, iscritta all'Università di Padova e trasferitasi in Erasmus a Barcellona. La magistratura spagnola ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del mezzo che ha ammesso di essersi addormentato durante la guida, ma nel novembre 2016 la magistratura ha deciso di archiviare l'inchiesta. Una inchiesta poi riaperta a distanza di quasi 8 mesi dalla riapertura delle indagini. Non risulta ancora alcuna richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del conducente indagato. Si vuole garantire, questo si legge in una nota di Bordini, la vicinanza e supporto della regione alle famiglie delle ragazze rimaste uccise nell'incidente nella ricerca della giustizia finora immotivatamente negata. E siamo ora alla pagina sportiva. L'Udinese è in attesa di un'altra missione quasi impossibile. Vediamo perché. Nessuno vuole portare rogna, ci mancherebbe, ma la realtà dei fatti dice che quella dell'Udinese a Napoli è un'altra missione quasi impossibile. Non tanto per i precedenti che già mettono i brividi con il Napoli che ha vinto 6 delle ultime 7 partite casalinghe contro l'Udinese. Nemmeno per i numeri di questo campionato che vedono gli azzurri seconda forza del torneo con 57 punti, più del doppio dell'Udinese. Nel se vogliamo per il potenziale in forza le due squadre con il Napoli che ha un parco giocatori del valore di 563 milioni e l'Udinese di 125, secondo Transfermarkt. Il problema principale, quello che impedisce di fatto a Nicola di poter cercare di giocarsela alla pari, sta nella disponibilità degli uomini. Sempre ridotta all'osso è quindi il fattore che complica qualsiasi piano di battaglia, da quello tattico a quello agonistico. Se Ancelotti lamenta solamente l'assenza del lungodegente al Biol, per Nicola la lista dei disponibili continua ad allungarsi. Rispetto a Torino ritrova Mandragola, che rientra dalla squalifica, ma perde Opoku per lo stesso provvedimento e Knighting per infortunio. Facendo i conti, quindi i bianconeri auti in questa difficile trasferta sono ben otto, Badu, Barak, Samir, Beramida, Alessandro, Theodor Cic, Knighting e Opoku. A loro si aggiunge Okaka, che fino a ieri ha lavorato a parte, e occhio a Pussetto, appena rientrato in gruppo dopo la botta alla caviglia. Gli inguaribili ottimisti possono argomentare che il Napoli potrebbe pagare le fatiche di Europa League, che nelle ultime cinque partite la squadra di Ancelotti ha rallentato il ritmo, collezionando ben tre pareggi, una vittoria e una sconfitta, quella con la Juventus. Ma non c'è davvero molto a cui aggrapparsi, soprattutto se ci si presenta al San Paolo con una formazione già di per sé qualitativamente inferiore e nuovamente molto rimaneggiata. La riforma della scuola, questo è il tema della puntata di Screenshot, in onda questa sera in diretta a partire dalle 19.45, in studio con Davide Vicedomini. Mario Pittoni, presidente della Commissione Istruzione, si parlerà delle ultime novità alla vigilia anche della protesta degli studenti e dello sciopero dei docenti indetto per la giornata di domani. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di serata, arrivederci. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti.